Perché ho pubblicato l'anno scorso, tanto lo faccio tutti gli anni, quindi fra poco riprenderò la stessa cosa. Questo è il benvenuto che io offro ai miei ragazzi, specialmente in quinta, ma poi l'ho esteso un po' a tutte le classi. Quindi benvenuti in quinta al tuo ultimo anno in un lungo ciclo scolastico che si conclude. Sarà un anno molto... Allora, che cosa succede qua? Allora, io compro per le classi, per tutte le mie classi, compro questi quaderni. Sono dei quaderni piccoli, sono dei quaderni a righe e sono dei quaderni a quadretti. Quelli a quadretti sono quadretti piccoli, non quelli grossi, chiaramente. Poi prendo anche un evidenziatore, ci sono questi evidenziatori a matita che sono molto belli rispetto a quelli ad alcol tradizionali, e una birra nera e poi una copertina per ciascun quaderno. Quindi che cosa faccio? All'inizio dell'anno... Qui avevo la mascherina ovviamente perché era l'anno scorso, quest'anno no. E all'inizio dell'anno, con una giacca, quindi perché è una cerimonia, quindi essendo una cerimonia deve essere... Deve avere tutti i crismi della... E' storytelling, no? Quindi vuol dire che questa cosa va costruita. Va costruita, gli va dato importanza, deve esserci suspense, deve esserci uno scioglimento, eccetera. Quindi cosa succede? Che i ragazzi sono chiamati uno a uno, in ordine alfabetico, alla cattedra, io sono in piedi e c'è questa cerimonia di consegna dei due quaderni, quello a righe e quello a quadretti, le due copertine e i due strumenti di... Quello di evidenziazione e quello di scrittura. Poi un saluto che, vabbè, avviene in questo modo, anziché tenersi la mano come negli anni passati. Allora, perché questo? Prima di tutto perché nella scuola abbiamo l'abitudine di intraprendere tante attività senza dare a queste attività la giusta importanza. Tutto passa, tutto viene frammentato, ci sono tanti insegnanti, tanti progetti, tante cose da fare. Quello che facciamo a scuola, appunto, è una cosa da fare. No, noi non facciamo cose che sono da fare, noi facciamo cose importanti a cui bisogna dare un peso e il peso, appunto, che voglio dare all'utilizzatore dei quaderni è tale per cui merita una cerimonia iniziale, esattamente come poi merita una cerimonia finale che poi vi troverò, perché qui ho poche foto, non ho ancora risistemato un po' di cose, poi vi farò vedere anche la cerimonia di chiusura dell'anno scolastico. Poi, soprattutto, bisogna dare attenzione e importanza all'utilizzo proprio del quaderno, perché il quaderno è uno strumento di lavoro sul quale oggi ci si sofferma raramente e non ha quell'importanza che dovrebbe avere. A mio parere, proprio nell'epoca digitale, i quaderni di carta e la scrittura manuale devono essere notevolmente ripresi in considerazione. Per quale motivo? Adesso veniamo alle indicazioni pedagogiche sull'uso di questi quaderni. Prima di tutto noi abbiamo un quaderno con la sua copertina. Perché la sua copertina? Perché il messaggio è molto chiaro. Questo strumento deve essere conservato. Deve essere conservato bene, non deve essere sciupato e deve arrivare fino alla fine dell'anno. Naturalmente un quaderno non basterà, quindi ecco come vi farò vedere che poi noi pinzeremo questi quaderni insieme. Notate che questi ragazzi, ho scelto una quinta proprio per mostrarvi, che sono ragazzi grandi, questa credo che abbia 19 anni, avesse 18, 19 più o meno. Però noi lavoriamo esattamente nello stesso identico modo con cui operiamo con i bambini in scuola elementare, perché l'importanza di quello che facciamo e le ragioni pedagogiche di quello che facciamo non sono affatto differenti. Anzi, in età adulta devono essere realmente recuperati. Quindi la copertina è importante, perché la copertina, come vi dicevo prima, trasmette questo messaggio di cura del quaderno, la cura. Poi la cura c'è anche per un fatto che questi quaderni, li acquisto io, non sono un omaggio della scuola, questo va detto agli studenti. Cioè deve essere chiaro che il docente si impegna a spendere il suo, niente di straordinario perché come vi dicevo li compro da un grossista avendo la partita IVA, e quindi li pago molto poco, però comunque è un impegno. Li devi andare a prendere, li devi cercare, li devi portare. Dunque non è qualche cosa di dovuto, che per esempio la scuola potrebbe avere, non so, 4.000 quaderni di regala agli studenti. No, questo è proprio un omaggio, un impegno dell'insegnante. E questo è importante, non perché è l'insegnante che lo fa, ma perché attribuisce importanza all'omaggio. E quindi questo significa stimolare la cura da parte dello studente. Se non c'è cura non c'è niente, non c'è nessun tipo di attività didattica. Poi il quaderno piccolo. Perché il quaderno piccolo? Tutti gli studenti oggigiorno utilizzano dei grossi quaderni con anelli, all'interno delle quali ci sono tutte le discipline. Questi anelli si aprono, i fogli vengono sostituiti, rimessi, non rimessi, su fogli molto grandi, eccetera. I quaderni con anelli non vanno bene. Non vanno bene per una serie di motivi che adesso ve li elenco alla rinfusa, quindi non in ordine di importanza. Allora, non vanno bene perché l'anello impedisce una corretta grafia. Provate a scrivere su un quaderno ad anelli e io vi sfido a trovare la posizione corretta del polso per scrivere correttamente in un'anografia accettabile con quest'anello in mezzo che ti impedisce, che tocca l'osso del polso e ti impedisce di scrivere. Poi il quaderno grande è meno controllabile da parte dello studente rispetto al quaderno piccolo. Il quaderno grande, più grande il foglio, più grande la pagina, questo lo sanno anche tutti quelli che insegnano discipline artistiche, più è complicato riempirla, è più complicato trovare gli spazi giusti, le forme giuste. Poi un altro motivo è che con il quaderno piccolo io riempio lo zaino, un piccolo zainetto, con i quaderni di tre classi. Con un quaderno grande ad anelli io non porto a casa neanche i quaderni forse di una classe, ma neanche. E questo che cosa significa? Significa che lo studente metterà la sua cura nel tenere il quaderno e l'insegnante ricambierà con la cura verso lo studente portando questi quaderni a casa, leggendo, correggendo, segnando, annotando, dando delle indicazioni, facendo i complimenti, invitando l'allievo a migliorare sotto certi aspetti, eccetera. Abbiamo quindi una forma continua di controllo da parte degli insegnanti sui quaderni degli studenti che specialmente nei primi tempi porterà a casa almeno settimanalmente, poi i tempi potranno essere più distesi. All'inizio questi quaderni dovranno essere portati spesso a casa dall'insegnante perché bisogna generare un'abitudine che non esiste più, che è l'abitudine che consiste nel fatto che lo studente consegna un prodotto all'insegnante e l'insegnante gli restituisce un prodotto che è un prodotto fisico, materiale, all'interno del quale c'è tutto, cioè non un foglio di una verifica in classe che poi viene riconsegnata e poi archiviata a scuola. Tutto questo serve anche per considerare che il quaderno è il centro dell'attività ed essendo il centro dell'attività, cioè di tutte le attività svolte con una determinata disciplina, lo studente lo deve avere sempre dietro ed essendo piccolo è facile averlo sempre con sé. Il quaderno piccolo, come tutte le cose piccole, come un piccolo gattino, un piccolo cagnolino, un pulcino, eccetera, suscita affetto, suscita affettività maggiore rispetto a un oggetto grande. E dunque l'oggetto piccolo che appare anche più maneggevole, che appare anche più personale, che ti porti sempre appresso, che puoi sfogliare rapidamente attraverso quel gesto di prendere le pagine e scorrerele rapidamente come un libro, cosa che non puoi fare col quaderno grande perché ha una copertina di cartone e delle pagine attaccate con questi anelli, tutto questo fa sì che si inneschi un meccanismo affettivo. Ora, siccome la relazione di insegnamento è innanzitutto una relazione affettiva, cioè se tu non sei in grado di costruire una relazione affettiva con i tuoi studenti, traduzione, se tu non vuoi bene ai tuoi studenti, i tuoi studenti non vogliono bene a te, non c'è una relazione di apprendimento, c'è una relazione meccanica dove si studiano delle conoscenze ma non c'è un vero aggancio, un vero transferte di lavoro tra lo studente e l'insegnante, ecco che uno dei tuoi compiti è quello di fare in modo di suscitare questa corrente affettiva e la cerimonia, il quaderno piccolo e tutte queste caratteristiche, eccetera, eccetera, determinano fin dal primo giorno questa corrente. E qui, tra l'altro, questa è ancora più importante se voi prendete una classe nuova, come in questo caso, chiaramente. Poi, perché la bironera? Perché è obbligatorio, indicazione prescrittiva, è obbligatorio scrivere con la bironera su questo quaderno. Poi i titoli, i disegni, che ne so, certe annotazioni, eccetera, potranno essere intraprese con qualsiasi tipo di colore, con gli strumenti che si preferisce, ma il contenuto fondamentale, quello importante, quello che poi bisogna leggere, quello che impiega, impegna l'intelligenza dello studente, beh, questo deve essere in bironera. Perché è in bironera? Semplice, perché il contrasto nero-bianco è il contrasto più alto che ci sia. Quindi avere un alto contrasto significa leggere meglio, effettuare meno errori, avere un controllo maggiore sulla pagina, avere un controllo cognitivo più importante, perché c'è una chiarezza in quello che fai. E poi, ultimo, ma non ultimo, se notate che razzo di occhiali ho io, cioè devo portarmi a casa 50 quaderni, scritti in blu, in chiaro, in verde, in cose, eccetera, ragazzi, non so, a quest'ora non sarei neanche qui, non vi vedrei, sarei cieco, e non so in che condizione sarei, no? Quindi, anche per me è importante poter rapidamente dare un'occhiata a questi quaderni senza sforzare il mio nervo ottico, già ampiamente messo alla prova. Ok? Questa è la ragione del quaderno. E tutte le attività, ma proprio tutte le attività, si svolgono sul quaderno. Sempre. Anche le verifiche, nel caso in cui... Allora, a parte la verifiche magari che dobbiamo fare per gli esami di Stato, per cui danno i fogli, i timbrati, quindi è giusto, no? Riproporre gli stessi strumenti, però normalmente anche le verifiche che svolgiamo sono fatte sul quaderno. Intanto perché sul quaderno ci sono tutti i loro appunti e quindi è giusto che anche durante una verifica loro possano accedere ai loro appunti e far funzionare il loro cervello. Perché lo scopo, e qui, vabbè, si aprirebbe un altro capitolo, ma che non possiamo affrontare, lo scopo dell'insegnante non è quello di controllare quello che lo studente fa e assegnare dei voti, ma è quello di spingere il più avanti possibile l'apprendimento. Dunque, anche la verifica può essere, anzi, per me lo è, è uno strumento di apprendimento, ma qui dovremmo aprire proprio il capitolo sulle verifiche, non c'entra niente con questo corso. Dunque, sul quaderno loro svolgono tutte le attività, ma proprio tutte. Questo permette una cosa straordinaria, ci permette di avere il controllo del processo di apprendimento, cioè dell'evoluzione dell'evoluzione dei ragazzi dell'evoluzione dei ragazzi nel loro apprendimento grazie al fa... Cioè, io posso vedere questa evoluzione, cioè sono dentro il processo di apprendimento perché il quaderno è il testimone di tutto quello che si fa. E non utilizziamo quaderni digitali, se non quando vi ho mostrato quei modelli per i quaderni operativi, ma lì mi servono, ovviamente, per poter ragionare, svolgere determinate operazioni comuni a tutti, è un'altra tipologia, quindi tutto avviene all'interno. E dunque io ho un chiaro quadro del processo cognitivo di ciascuno mio studente. Per esempio, ve ne mostro uno particolarmente significativo, questo era il quaderno di uno studente in quarta, quindi 17 anni, cioè questo è il modo con cui scriveva e trattava il suo quaderno, un ragazzo con delle problematiche importanti. Questo è un'altra pagina del suo stesso quaderno. Bene, quindi siamo in una situazione estremamente grave, ma non perché, diciamo, non è scritto bene, non è questa la questione, ma intanto la bellezza significa anche ordine, ordine mentale, capacità logica, eccetera. Ma il problema è che questo disordine significa proprio un disordine logico, un disordine mentale che in qualche modo deve essere... Scusate, c'è qualcuno in sala di aspetto, mettiamo tutti e voilà. Questo invece è il quaderno dello stesso studente quattro mesi dopo. Cioè, non so se mi spiego. prima e dopo. Prima della cura e dopo la cura. Ma quale tipo di cura? Ma niente più di quello che vi ho detto prima. Cioè, consegnare il quaderno, ritirarlo, far sentire che esiste una continuità da parte del lavoro dell'insegnante e quindi che lui è importante perché io voglio veramente che raggiunga degli obiettivi e questi obiettivi siano valutati a tutti gli effetti. Perché poi anche un'altra cosa importante è che noi daremo delle valutazioni proprio sul quaderno, delle valutazioni che a tutti gli effetti rientrano nelle valutazioni ordinarie. Quindi, vedete, prima della cura e dopo la cura. Interessante, no? Questo è ancora lui? Cioè, come dal giorno alla notte, senza impiegare nessun tipo di strumento compensativo, non compensativo, eccetera, eccetera, solo una questione di cura, attenzione, affettività, presenza dell'insegnante e regolarità del rapporto con lo studente. Adesso, qui ho aperto un file però che ha, non so come mai, 10.000 duplicati della stessa cosa, quindi ne vediamo un altro. ecco. Qui è il il i quaderni poi, ma mano a mano, vedete, ci sono gli appunti. Questi, io scrivo sempre in matita le mie considerazioni. Intanto perché non voglio sovrappormi alla scrittura dello studente. I quaderni loro, io non lo voglio sciupare. Se loro desiderano possono cancellare. Tanto quello che io scrivo poi serve per così, a loro come indicazione per cambiare, mettere a posto due cose, eccetera. Questi sono degli appunti, c'è chi prende appunti in questo modo, chi in questo, però chi in quest'altro. A me piace sempre però che queste posizioni si scambino, vale a dire, chi utilizza sempre delle freccette, loro le chiamano mappe ma non sono mappe, sono solo frasi con delle freccette, no? che hanno avuto l'abitudine di chiamare mappe. Quindi chi usa delle frasi con delle freccette lo invito invece a scrivere in modo narrativo e viceversa. Chi scrive in modo narrativo lo invito invece a prendere appunti in modo più frammentato. Però io do delle indicazioni su come gli appunti vanno presi, ma non solo. Quando siamo a lezione e ci occupiamo di un tema, ecco che in questo tema, durante questo tema io chiedo, avete preso appunti su questo punto Speranza versus Angoscia? Che cosa avete scritto? Cosa hai scritto tu? Cosa hai scritto tu? No, ma guardate che forse manca questa parte. Non vi rendete conto che cioè vanno seguiti perché questi che sono poi gli appunti presi durante le lezioni in classe che sono sempre che hanno sempre anche un contenuto di discussione, elaborazione collettiva, di idee anche che vengono fuori e qui poi vedete ci sono le ragazze poi soprattutto le ragazze piace colorare, piace nei maschi sono più cioè sono meno più asetti come dire hanno meno meno colore no? Meno espressività. Ecco, quindi il quaderno poi a mano a mano si riempie di tutte queste cose tra cui anche i lavori come quelli che abbiamo visto sulla striscia in questo caso questi lavoretti sono svolti in gruppo vedete che c'è sempre il quaderno naturalmente lavorano sempre sul quaderno e poi questo ma sempre sul quaderno cioè non diamo un compito a parte perché questa è una striscia un compito un po' originale no deve essere tutto all'interno per poter vedere ecco questo è un fatto invece su foglia buchi perché aveva finito il quaderno quindi provvisoriamente aveva utilizzato questo poi glieli faccio incollare quindi loro tagliano qua tagliano il coso e poi incollano questa parte sul loro quaderno ecco queste sono alcune immagini però è proprio importante ecco qui vedete magari anche la varietà con cui questi quaderni sono sono trattati scritture grosse in stampatello più in corsivo perché qui c'è una storia e purtroppo è una cattiva storia ed è una cattiva storia che viene dalla scuola elementare una volta nella scuola elementare si curava molto la scrittura la scrittura in corsivo che oggi è completamente persa io raramente ho nel insegno in istituto professionale raramente ho degli studenti che sanno scrivere in corsivo quindi io riprendo anche lo studio del corsivo proprio sapete le A le B dentro le cose eccetera invece io ho insegnato anche elementari dieci anni quindi so bene le cose come sono cambiate c'è una totale sottovalutazione nell'utilizzo del corsivo del quaderno e della grafia si fanno pochi esercizi grafici ma sviluppare pochi esercizi grafici significa avere poca attenzione alla bellezza ma la bellezza è una base dello sviluppo cognitivo è ordine è poter rintracciare leggere e poter aspirare anche a vivere in un mondo migliore ovviamente perché se tu raggiungi una capacità espositiva ecco qui ognuno ha la sua scrittura va bene però questa è già una scrittura leggibile io insisto molto molto su questo svolgiamo degli esercizi proprio i classici esercizi che facevo con i bambini della scuola elementare vediamo cosa trovo ancora qui abbiamo un lavoro ecco qui abbiamo un compito completo per esempio su Giuseppe Carducci svolto all'interno del quaderno vedete tutto quanto così all'interno del quaderno bello ordinato pulito ora io però non dico ai miei studenti che devono questo abbiamo un altro quaderno è venuto blu perché diciamo non ha è la fotocamera del cellulare che ha distorto il colore ecco questo abbiamo un altro quaderno con vedete vari credo che sia quasi completo la cosa del genere vi dicevo che ma qui è interessante perché poi a volte loro aggiungono gli indici allora una cosa che fa innervosire i miei studenti è che noi parliamo di Salinger magari quindi studiamo delle cose prendiamo degli appunti eccetera poi andiamo avanti poi a un certo punto due mesi dopo ritorniamo su Salinger perché e beh perché si fanno dei collegamenti si riprendono delle cose magari si fa una nuova lettura non lo so e allora dà un fastidio incredibile perché diciamo Salinger non è più allo stesso punto hanno un Salinger le prime pagine e poi ne hanno uno 30 pagine dopo per dire di compiti eccetera allora che cosa tendono a fare loro tendono a fare il lavoro di brutta no sulle brutte eccetera poi a ricopiarlo in bella sul quaderno io gli dico sempre che questo non è da fare perché il quaderno deve trasmettere proprio il senso del lavoro che hanno svolto durante l'anno quindi anche se ci sono dei pasticci delle cancellature se Salinger non è all'inizio cioè non è tutto insieme perché guardate che quando sono in quinta specialmente le ragazze che tengono in particolare all'ordine così sono anche capaci di ricopiare tutto un quaderno cioè di ricopiare magari anche tre o quattro quaderni ricopiare tutti per presentarli alla maturità con l'ordine che non è quello scolastico ma è l'ordine che loro si sono organizzati allora gli dico tenete dei bigliettini questi come si chiamano questi cosi post-it sì post-it forse sì sono quelli piccolini e con questo vi organizzate il vostro indice perché? perché da un punto di vista pedagogico quello che a me interessa non è tanto che il quaderno sia effettivamente in ordine bello cosa che mi interessa ma mi interessa per insegnare qualche cosa a loro una loro acquisizione quello che a me interessa invece è proprio l'asse temporale su cui il quaderno si costruisce altrimenti non ho in mano lo sviluppo proprio i cambiamenti di scrittura di posizione di intelligenza e quindi insisto molto sul fatto che il quaderno sia un prodotto e anche se siamo in quinta proprio insisto sul fatto che non ricoprino niente ma portino il prodotto del loro lavoro intanto perché la commissione se tu spieghi solo quello che hai fatto non ci crede perché noi svolgiamo un lavoro enorme voi pensate che durante un anno scolastico di una classe che io prendo anche solo in quinta noi possiamo svolgere studiare una ventina di autori e leggere cinque romanzi miei studenti che ripeto di studio professionale quindi non sono abituati a lettura alcuni non hanno mai letto nulla in vita loro però leggono cinque romanzi integralmente ma romanzi di grande letteratura ovviamente commentati discussi in classe analizzati eccetera diciamo un lavoro straordinario e questo lavoro bisogna che sia documentato anche per la commissione di maturità che si renda conto di cosa c'è alle spalle e che quindi non si riduca all'esame alla solita interrogazione cina su chi era quest'autore cosa ha fatto e cosa ha scritto ma si prendono i libri testi quaderni in mano e si ragioni con gli studenti perché questi studenti sono in grado perfettamente di ragionare ecco vedete questa cosa volevo farvi vedere non vi ho detto che questo è un quaderno finale quindi è un filmatino fatto a fine maggio più o meno così vedete che poi non è un quaderno ma qui sono tre o quattro quaderni messi insieme e notate che a un certo punto ecco vedete qui ci sono anche sul quaderno ci sono anche questi queste cose questi si chiamano sketch note io insegno ai miei studenti a creare degli sketch note cioè sono degli appunti visivi inizialmente li facciamo insieme in quel caso io uso l'iPad e uso delle applicazioni come iPaper oppure Procreate e disegno alla lavagna così loro un po' ricopiano e un po' mettono aggiungono delle cose fino a che poi li sanno realizzare anche per conto loro ah sono applicazioni sempre per la disegno no 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 io ho fatto fare perché noi abbiamo fatto delle gite online e mentre guardavano la gita io appunto gli ho fatto fare degli sketch note prendendo appunti su quello che vedevano e fare poi una linea del tempo grafica sulle due giornate di gita però io avevo trovato un pdf cartaceo dove c'erano degli esempi però adesso no no qui è proprio sull'applicazione di disegno si disegna con l'apple pencil eccetera questo per esempio è una rappresa uno sketch note su il primo libro che normalmente io stiamo parlando di una classe quinta poi nelle altre classi leggiamo altre cose ovviamente e il primo libro che do da leggere sempre in una quinta che è Uomini e topi di Stanbeck e questo è lo sketch note che rappresenta alcune delle tematiche all'interno di questo libro vedete questo è invece uno sketch note su spleen ma quello dello sketch note è un tema che non possiamo affrontare ovviamente non possiamo parlare di tutto in questo corso quindi lo registrate e lo mettete da parte poi qui che cosa abbiamo qui eccolo qua ecco questo per esempio è uno sketch note realizzato durante sono tutti realizzati in classe naturalmente perché perché sono gli sketch note sono il frutto di una discussione sul testo quindi noi abbiamo letto il libro e quando si è letto il romanzo integralmente poi si arriva in classe per discuterne la lettura adesso io insegno italiano voi qui ci sono insegnanti che affrontano diverse discipline eccetera quindi non affronto questo argomento ma ho tutto ho sviluppato nel corso degli anni tutta una metodologia particolare sullo studio di un libro di un romanzo e sui compiti che su questo romanzo devono essere svolti in modo che si arrivi a una reale discussione in classe come se fossimo all'interno di un circolo letterario e quindi il riassunto della discussione in primo luogo è dato attraverso uno sketchnote e quindi questo è un anno terribile di John Fante e qui abbiamo la rappresentazione che a mano a mano si parte da qua dal titolo poi dalle prime cose poi via via poi a mano a mano che vengono tirati fuori gli argomenti si rappresentano e si dà una piccola cosa vi dico subito che i miei studenti quando leggono un romanzo questo lo dico così per farvi capire il metodo in parte il metodo che adotto è che i miei studenti quando leggono un romanzo ricevono solo questa indicazione loro devono leggere il libro non devono scrivere nessuna trama non devono scrivere nulla su questo libro perché è pieno internet quindi non mi interessa che si vada in giro a prendere però quando leggono un libro loro devono tenere la matita in mano se il libro è di carta perché alcune volte per esempio ci sono dei testi solo digitali quello di Paul Bowes per esempio non esiste di carta è solo digitale e se no con la matita in mano loro sottolineano tutto quello che in questo libro suscita un loro interesse quindi perché non so è straordinario perché non si è capito niente perché è confusionario perché è proprio difficile perché è bello perché è una cosa a cui non hanno pensato quale che sia il motivo loro sottolineano poi che cosa fanno? sul quaderno questo quaderno loro ricopiano dieci di queste citazioni dieci, dodici otto, dieci, due a secondo dell'ampiezza del libro quindi devono scegliere tra tutto quello che hanno sottolineato un numero stabilito per tutti di citazioni le devono ricopiare sul quaderno se fossero troppo lunghe le ricopiano solo una parte poi i pontini di sospensione e poi devono scrivere perché l'hanno scelto e che cosa sta succedendo in questo modo che cosa e basta questo è l'unico compito che devono fare quando leggono un libro poi dopodiché loro ricevono un voto che parte dal 7 in su per aver letto il romanzo perché è un lavoro è un lavoro che oltre a tutti i miei studenti non sono abituati a fare il lavoro va retribuito siamo in una società capitalista dove il lavoro è sfruttato però per frutto non è retribuito quindi noi seguiamo questa logica il lavoro va retribuito quindi hai letto un romanzo ti sei impegnato dei pomeriggi per leggerlo e quindi hai un voto positivo di default poi hai fatto il compito e un altro voto perché è un altro lavoro che hai fatto indipendentemente dal fatto che il compito sia pieno di rovi d'ottografia o di altre cose non importa dobbiamo separare le questioni poi arriviamo in classe con questo quaderno e dove ci sono tutti i come si chiama dove ci sono questi lavori su questo romanzo e quindi ne possiamo discutere ecco che il frutto della discussione non schiacciano ma come avviene la discussione beh avviene sulla base delle citazioni perché qualcuno non so io posso porre una domanda ma Dominique Molise era veramente aveva veramente un talento secondo voi sì o no il suo braccio era veramente a baseball lui sapeva giocare veramente sì o no no e quindi bisogna dare delle risposte queste risposte si danno sfogliando il libro trovando le citazioni di argomenti valutando che sì di amici credevano oppure di amici non credevano che il padre come la pensava quindi era una sua convinzione era matto lui oppure veramente avrebbe avuto il talento di un grande giocatore di baseball e così via e dunque abbiamo le nostre citazioni questo consente di fare una serie di cose consente che il libro sia letto effettivamente che non ci siano scopiazzature su internet perché il lavoro è completamente originale e individuale e poi viene valorizzato ogni studente perché la discussione la discussione naturalmente durante la discussione ci sono delle parole di apprezzamento per quello che dicono ci sono delle valutazioni quindi si daranno dei voti e poi si daranno anche dei voti su un determinato contenuto quindi su questo lavoro per esempio io ho 4, 5, 6 voti per ogni studente ma la valutazione è un argomento che non possiamo affrontare io chiudo un trimestre un quadrimestre con posso avere 25 30 35 voti a studente e quindi ho un'ampia gamma di ho un quadro molto ben preciso diciamo per svolgere una valutazione come si deve ecco questi sono altri scheggio e così va bene ma tanto avete il materiale allegato questo non so cos'è ah sì un altro esempio ecco vedete no molto infantile questi sono ragazzi 18-19 anni allora uno si chiede come mai nella scuola italiana si arriva a 18-19 anni senza saper così che poi questo se la cava perché non è mica male ma guardate che non tutti sanno neanche disegnare magari dei piccoli cosmi cioè è un fatto incredibile io penso nel nostro paese che non ci sia una vera e propria educazione artistica e voi ed educazione perché nel nostro paese noi abbiamo sempre l'arte alta e poi la cultura bassa invece non capiamo che l'arte è ovunque che noi possiamo metterci della creatività e della bellezza in qualsiasi cosa per cui se i colori fossero più appropriati più cose eccetera questo sarebbe ancora più bello va già bene è già un bel risultato ma ecco per dirvi però che siamo in questa situazione ok fine dei quaderni dobbiamo passare ad altro ah no consegna di un quaderno di carta eccolo qua come si fa a passare questi quaderni in modo digitale perché qualcuno prima ha fatto la domanda ma come fai poi a a tenere tutto sotto beh si apre il classroom un classroom come con voi e poi dopodiché si utilizza un'applicazione che si chiama Adobe Scan che è gratuita con questa applicazione qui è spiegato un tutorial di 5 minuti che vi spiega esattamente come fare non ve lo sto neanche a spiegare io perché è talmente spiegato bene qua che vedete voi avete eccolo qua cambiate il nome avete non la scansione di una pagina ma proprio un documento pdf con tutto il lavoro e quindi questo lavoro poi viene consegnato viene consegnato come pdf allegato a un compito e quindi io ho rapidamente anche sotto mano tutti vedete qua 23 compiti su 26 per esempio ecco che io ho qua come avete fatto voi ho qua i quaderni anche in formato pdf quindi non solo di carta ma anche in formato pdf questo a me è utile perché il quaderno lo devo consegnare poi allo studente perché ci deve lavorare quindi lo tengo un pomeriggio ma questo mi rimane questo mi rimane e mi rimane su tutti i compiti e quindi io ho sempre un controllo continuo allora domande problemi dubbi incertezze sulla questione le cahier le cahier a un papier vuol dire i quaderni di carta no tutto abbastanza chiaro io avevo una domanda scusami nel senso che mentre parlavi stavo prendendo appunti e ragionando sulla mi piacerebbe molto attivare questo tipo di almeno in una paio delle mie classi in una terza in una quinta in una quarta in una quinta però in una delle quinte io ho un ragazzo gravemente disgrafico fortissimamente disgrafico cioè praticamente riusci neanche a tenere in mano la penna sì che cosa si può fare per rendere inclusiva cioè però mi piacerebbe provare questa io guarda io un quaderno lo do a tutti e poi ognuno tiene in mano la penna come può ok va bene però tutti ce l'hanno se poi proprio deve lavorare con la tastiera va bene lavorerà con la tastiera stampa ritaglia incolla sul quaderno il quaderno resta comunque il raccoglitore ho avuto degli studenti da cui anche quest'anno che proprio non riusciva assolutamente anche se anche se io sono convinto che col tempo sarebbe riuscito a migliorare ma questa cattivissima abitudine di dire ah non sa fare questo allora lo mettiamo una tastiera cattiva abitudine che parte praticamente dalla seconda o dalla terza elementare gli ha aumentato un problema che secondo me non era affatto un problema così grave ma che a quel punto a 19 anni è diventato un problema insormontabile o comunque non sì sì sono d'accordo anche perché in questo caso nel mio caso è anche un po' diciamo un po' un'arma che lui usa ma certo perché guarda è alquanto positivo no e quindi questa cosa diventa no ma io non faccio perché io non cioè certo esatto una persona che sì sì è positivo beh Freud parlava del tornaconto secondario del sintomo quindi il sintomo è un problema perché ti dà fastidio però tu hai anche un tornaconto secondario del sintomo e quindi dopo anni e anni di esperienze scolastiche i ragazzi imparano che la loro condizione speciale gli permette di lavorare meno di fare cioè eccetera invece noi no noi partiamo dal fatto che tutti hanno il loro quaderno e lo usano poi di fronte a difficoltà grosse ovviamente bisogna adeguarsi chiaramente però va bene cosa dite? good talk good talk grazie a tutti